Ancora corruzione in pubblici uffici, oltre alla truffa. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziera di Palermo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 24 soggetti, di cui 4 sottoposti a custodia cautelare in carcere, 12 agli arresti domiciliari, 8 sottoposti all'obbliga di dimora nel comune di residenza. Sequestrate 14 imprese, tre delle quali con sede all'estero, Ungheria, Austria e Romania, per un valore di circa 24 milioni di euro e disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per oltre 12 milioni e mezzo di euro, bloccata inoltre l'erogazione di contributi in debiti per ulteriori 3 milioni e mezzo di euro. I reati contestati sono associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, falsità materiale ideologica in atto pubblico, rivelazione di segreto d'ufficio, soppressione e occultamento di atti pubblici. Le indagini dei finanzieri si sono concentrati sul litro di concessione di finanziamenti pubblici in agricoltura nell'ambito del programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013, 2014-2020, che ruotano intorno all'ispettorato provinciale dell'agricoltura della regione. Sono due filoni di indagini, il primo riguardo i finanziamenti pubblici percepiti indebitamente, il secondo invece è incentrato sull'operato dei funzionari pubblici che avevano il compito di controllare i requisiti e l'attribuzione dei punteggi per l'ammissione al contributo delle domande di finanziamento. Dagli accertamenti sulle domande è stato appurato che nel periodo 2012-2018 sono stati percepiti finanziamenti per un valore di circa 10 milioni di euro da due società riconducibili direttamente o indirettamente ai fratelli Giovanni Salvatore e Francesco Di Liberto di Belmonte Mezzagno. Le intercettazioni hanno messo in luce il meccanismo attraverso cui avrebbero ottenuto i fondi pubblici in modo illecito, grazie al supporto di professionisti e alla compiacenza di Filippo Cangelosi, funzionario istruttore all'IPA di Palermo. Il secondo filone invece ha permesso di accertare la corruzione ovvero l'esistenza di pratiche clientelari per favorire alcune domande di finanziamento nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013 e PSR Sicilia 2014-2020 da parte di dipendenti pubblici in servizio all'IPA di Palermo. I riscontri effettuati alle fiamme gialle hanno consentito di accertare l'esistenza di molteplici cointeressenze tra i soggetti privati proponenti le domande di finanziamento e dirigenti funzionari dell'IPA finalizzata all'illecito ottenimento di rilevanti finanziamenti pubblici concessi alla Regione attraverso l'alterazione o addirittura la sostituzione dei documenti posti a supporto delle richieste.